ecco bella a tutti raga come tutto bene come sempre io sono chino oggi voglio portare un video un pochino diverso dal solito nel senso che a me piace portare questi video un po dove vi faccio vedere le cose particolari anche che magari il video risulterà magari brevissimo no raga però mi piace proprio farvi vedere cose che probabilmente gli altri canali non vi fanno vedere no mettiamola così questo in sé diciamo un piccolo easter egg per chi sapesse cosa vuol dire in sé la parola un piccolo easter egg per riuscire a trovare più erbe fibrose più bacon solo ed esclusivamente nella città fantasma piccola premessa raga cioè chiunque voi di voi gioca salva al mondo sa quanto è impossibile farmare sia le erbe fibrose che il bacon almeno ogni spuglio di un'erba fibrosa il bacon si trova un po qua e là nelle cassettine ma guardate se trovate appunto questi campi questi campi questi piccoli orticelli direi guardate quanto bacon che riesco a estrarre da qui raga questo pupazzo che cazzo vuole ok è pieno di bacon raga cioè pieno praticamente ti fai un paio di partite qua e hai uno stack pulito pulito di bacon soltanto da qui senza spaccare cucci di cani senza andare in giro a luttare cespugli senza dover passare tutta la vita a dover farmare sti bacon guardate un altro campettino questo raga solo ed esclusivamente nella città fantasma questo ci dà una grossa mano perché soprattutto con il bacon e poi vedremo anche l'erbe fibrose ci craftiamo qualsiasi cosa trappole a gas ma già solo le trappole a gas che secondo me sono le trappole più importanti del gioco ci portano via un sacco di erbe fibrose un sacco di bacon uno di bacon a trappola però becco serve anche per molte altre cose per le pedane difensore serve per mi sembra la pedana curativa insomma comunque serve meglio luttarselo in quantità per i colpi energetici ci sono tante ragioni per cui serve il bacon uso questo straniero io raga perché lo straniero fondatore ottimo per vedere tipo i tesori attraverso i muri come vedete ogni volta che uso lo scatto mi fa vedere come se scintillasse in sé l'eroe no questo eroe ti fa vedere attraverso i muri le varie i vari tesori e con varie gradazioni di colore dal verde al viola per le casse più rare diciamo è più come bonus bonus squadra gli ho messo ac percussore o ac segugio insomma che ci dà il 6% in più di trovare il bottino doppio 6% di probabilità quindi anche questo eroe comunque ha la stessa medesima perk adesso voglio farvi vedere il pezzo forte raga un secondo che mi secco sto smasher non voglio interruzioni ok voi potete benissimo andare io sto facendo le scale perché mi piace farvi vedere le cose dalle angolazioni migliori ok lo vedete questo tipo qua fatto col fieno lo vedete questo signore col braccio alzato ehi tu bello com'è t'ha a posto non sai che ti sto per spaccare il tesoro ai suoi piedi guardate eh se li tirate un po' di picconate in teoria dovrebbe prendere fuoco ecco ecco pieno zeppo di erbe fibrose raga quante sono sono 16 erbe fibrose avrei passato almeno 20 minuti per riuscire a farmi 16 erbe fibrose ho trovato questo ragazzo col braccio alzato gli date due botte col piccone li fate prendere fuoco e quando quando rilascia quando lo distruggete del tutto rilascia erbe fibrose fantastico e raga intanto guardate come vi faccio vedere anche il fatto che il mio AI vi fa vedere il lutto attraverso i muri no in questo caso attraverso il fieno utile tra virgolette anche inutile per combattere diciamo utile per luttare sì però alla fine è vero i tesori fa comodo vedere dove sono anche perché dovresti spaccare tutte le case spaccare tutti tutti i sotterranei insomma verrebbe comunque abbastanza lungo a farmare tutto questo era un piccolo video guida un piccolo video in cui vi mostro questo piccolo trucco e niente raga fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo video voglio vedere se vi è piaciuto se vi piacciono queste idee anche perché mi piace variare un po portare sempre contenuti un po diversi sul canale io spero che questo video almeno oltre che esservi piaciuto vi possa tornare utile per oggi è tutto raga comunque ci vediamo domani domani e domenica e soprattutto lunedì inizia la settimana cosa c'è lunedì su questo canale sempre un video contest raga dobbiamo decidere anche un giorno fisso per fare le live in cui vivo per oggi è tutto dal vostro chino bella raga